Gentili telespettatori, buona giornata. Dopo un periodo di pausa inspiegabile, torna in grande stile Roberto Saviano contro i fascisti che ci sono al governo. E dice, ospite al 9, se non sbaglio da Fazio Fabio o Fabio Fazio, sì esatto, proprio nella trasmissione Che Tempo che fa, parlando di Antonio Scurati, la censura in Rai, eccetera, eccetera, lui si autoinveste del baluardo dell'antimelonismo. Lui è l'antimeloni per eccellenza e lui dice per anni siamo stati bersaglio. Meloni chiude a Treiu dicendo che io guadagnavo parlando di Camorra. Il messaggio che loro hanno sempre cercato di dare è non li ascoltate, lo fanno per soldi. Il loro obiettivo è impedire il tuo lavoro, impedire la ricerca, toglierti spazio. Quindi lui sta parlando adesso in questo senso, cioè il loro obiettivo, cioè quello di Meloni e del governo, è impedire il tuo lavoro, cioè sta parlando del suo lavoro, di impedire la sua ricerca, di togliergli lo spazio. Dice che l'antifascismo è riconosciuto almeno dalla parte democratica di questo paese. L'antimafia no. Perché sì, si può dire io sono antifascista, ma io sono antimafia non l'ho mai sentito. Insomma, non ho mai sentito dire io sono antimafioso. La prima volta che sento questa cosa da Saviano. Però lui dice, l'antifascismo è riconosciuto almeno dalla parte democratica di questo paese, l'antimafia no. È scivoloso, momentaneo, insider che io ho realizzato, prodotto, registrato e presentato ai palinsesti, è stato fermato per vendetta. Il governo decide con me di fermarmi, di bloccarmi, anche le ospitate tv. Il messaggio è, se vi comportate come lui, farete la sua fine. Il messaggio passa attraverso il mio corpo. Gli altri pensavano, vabbè, è un problema suo, succede a lui, non succederà a noi. Loro non vogliono dichiararsi antifascisti, ma afascisti vogliono far passare il messaggio che alcuni elementi di quella stagione sono positivi. Dice Saviano riguardo al governo, no? Sapete la solita frase, beh, ha fatto anche cose buone. Insomma, più che discurati da Fazio si parla di Saviano, ovviamente. Allora, io vi posso dire, poi lui dice, parla anche di altre cose, di Sandokan, no, non è Sandokan quello di una volta, Sandokan, Sandokan. No, è Sandokan il pentimento di un criminale. Dice il pentimento di Sandokan, ad esempio, bisogna capire se collaborerà quando ha deciso di pentirsi, dentro di me è passata tutta l'esistenza. Ora la domanda è di cosa parlerà, quanto dirà di vero, quanto un capo si pente, dice Saviano, comunque perde il suo ruolo criminale. Non può essere più capo, ma può continuare a comandare il suo mondo economico. Allora, Saviano dice che hanno voluto punire, aveva preparato già un programma. Io ricordo bene che il governo non aveva nessuna intenzione di cacciare Saviano come non aveva nessuna intenzione di cacciare Rannucci. Infatti Rannucci ha continuato col suo programma e Saviano no. Perché? Perché Rannucci non ha preso a parolacce Meloni, Salvini, non ha parlato di ministri della paura. Ora, ecco, la differenza tra Rannucci, che ha continuato a lavorare in Rai, e Saviano, che non ha potuto neanche cominciare, è proprio questa. Saviano addirittura, quando era arrivato il governo Meloni, gli avevano dato uno spazio, gli avrebbero dato anche un piccolo programma giornaliero, se non sbaglio, non vorrei dire... Gli avrebbero dato un programma più uno che aveva registrato. Aveva in ballo due programmi televisivi, pensate un po'. Solo che poi salta tutto. Lui, come anche l'altro Facci, giornalista di centrodestra Facci, viene cacciato, doveva cominciare con un programma in Rai, un programma quotidiano, i Facci tuoi, doveva chiamarsi. Non l'hanno fatto neanche cominciare, perché lui scrive su un giornale, e su quel giornale aveva scritto delle volgarità, e allora il codice etico della Rai ha detto, vabbè, noi non cominciamo neanche con lui, via, perché quello che ha scritto su un giornale per il nostro codice etico non va bene. E quindi, non ha mai cominciato. Nello stesso periodo, anche Saviano insultò di nuovo Salvini. A quel punto la Rai disse, facciamo la stessa cosa con Facci. A lui cancellato il programma, anche tu, con noi, hai chiuso. E chiuso vuol dire che né lui, né Facci, né Saviano, oltre ai programmi, non vengono invitati da nessuna parte, chiaramente. E questo non è dovuto alla volontà di silenziare lui, di non farlo parlare, perché lui può andare alla 7, può andare sul 9, può andare su Mediaset, su tutte le reti televisive di Mediaset. Non credo che ci sia una... come si dice... non è stato allontanato da Mediaset. Per tanto, non viene invitato più nelle Rai, poi questo durerà fino al 2027. Poi, se dovesse arrivare un governo di sinistra, tireranno fuori il suo docufilm e manderanno in onda tutte le puntate. Lui aveva anche parlato, la Meloni, il governo, fiancheggiano la mafia, hanno fermato il mio programma perché non vogliono che parli di mafia. Aveva tirato fuori tutte delle elucubrazioni mentali che erano solo frutto della sua fervida fantasia, un po' così. Sì, perché in realtà, ditemi voi se il governo vuole tutelare la mafia e non far parlare Saviano di mafia. Insomma, quelle poi sono delle cavolate al cubo. Lui, come scurati, ricamano paura, mi censurano, tutte queste cose qua. Io credo che queste persone non abbiano nessuna paura. Lo raccontano perché fa tanto alone, fa tanto... Ecco, pertanto Saviano ormai è mesi e mesi che quando va in televisione racconta sempre la stessa cosa, il perseguitato dal governo neofascista. Lui, scrittore neopartigiano, perseguitato da un governo neofascista. Questo è il suo live motive. Se a Saviano togliete questo, che cosa rimane? Se voi togliete a Saviano il governo antifascista, il governo non è antifascista, lui non è un perseguitato... Capite che il personaggio che lui si è creato, che fine fa? Cioè, lo invitano in televisione con chi se la prende? Con la Schlein, che è sua amica? Con chi se la deve prendere? Dovrebbe parlare di altre cose. Invece, ormai il suo personaggio è lo scrittore partigiano contro il governo, cattivo, che vuole reprimere la sua libertà di espressione. La sua libertà di espressione, però, l'abbiamo visto sulla 7, erano parolacce pesanti verso la Meloni e Salvini. Ecco, pertanto questa è la realtà. Grazie a tutti e arrivederci a presto.